Ok, andiamo a destra, scendo col bacino, toccando a terra e risalto, dieci volte. Ma resta in posizione, eh? Facciata andando, ma non esce mai. Cambio, lo faccio dall'altro lato. Facciamolo pure il più bello, eh? Facciamo degli spazi. Poi restiamo su. Ehi, bravo! Stiamo in posizione! Non possiamo, non vada, non vada, non vada, non vada, non vada, non vada, dai! Dai, si! Si! Solo! Guarda! Solo! 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 Forza! 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 Per la squadra! Mi allena, compa! Sì! Mi raccomandano, ma... Sono lo andato a fare! Perciò, più di distanza! Io mi alleno, compa! Grazie.